Un tragico incidente sul lavoro stamattina a Rovereto a perdere la vita un operaio di 39 anni, cittadino serbo, operaio di una ditta trevigiana. È accaduto dall'impalcatura nel cantiere all'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto dove è in costruzione attualmente il reparto di dialisi. L'operaio è accaduto mentre si stavano smontando le impalcature, un volo di 5 metri. L'uomo è stato subito operato ma non ce l'ha fatta. Sul luogo dell'incidente, carabinieri e ispettorato del lavoro.